Buonasera a tutti, un primo video di presentazione del sito di cantabilink.org un sito prodotto da Cantabile, la musica condivisa, un sito di incontri musicali per conoscere le persone e le culture. Vedete un menu abbastanza tradizionale, chi siamo, il progetto, blog, contatti, scriviti, accedi, per chi si iscrive. La selezione del linguaggio, possono scrivere persone diverse, il sito è tutto in francese, in arabo, come in latino. come voi volete per poter far partecipare tutti. È un sito che ha un catalogo di materiali, abbiamo messo i primi materiali per ora, quindi con la classifica dei più cliccati, con le categorie. Questo è un post pubblicato direttamente dall'utente, con un contributo video. Torniamo indietro, c'è una ricerca per filtro, che è il cuore della possibilità di ricerca per le persone. Si può cercare il contenuto filtrando tra più categorie, per organico, per destinazione, per genere musicale, per sviluppi che si intravedono, per origine e provenienza, per il tipo di elaborazione musicale e per la difficoltà. Quindi ci sono molte possibilità di trovare il proprio brano e soprattutto di poter mettere mano alla musica pubblicata da qualcuno per farne altro, per contaminarla. C'è una sezione di news e una serie di servizi per chi si abbonna, lo vedremo nel prossimo video. Si può caricare liberamente il materiale, c'è una chat e alcune, diciamo, servizi offerti agli abbonati. Concludo questa prima descrizione guardando con cura a chi ci rivolgiamo, a persone singole, curiose, a musicisti, a gruppi musicali, a insegnanti e studenti per trovare degli spunti di lavoro. E molto in questo periodo difficile ad associazioni, ONG, enti che sono in relazione anche con situazioni estere, per poterci sentire più vicini, per far sentire la voce musicale di amici che sono lontani e che possiamo raggiungere difficilmente in questo momento e magari proprio iniziare delle piccole forme di collaborazione e di conoscenza culturale e di contaminazione. Grazie e buonasera a tutti.